Allora abbiamo di nuovo le parole napoletano che devi leggere e tradurre cioè questa non è una parola, questa è proprio una frase, vai sulla prima frase La prima frase Quella frase, questa è Quella è una V Lenovo No, no No, è buono No È una lingua, la lingua Bocchiavo da lingua in culo No Sai che significa? Secondo me non è bello Significa essere zitto In maniera poco carina E sotto? Io stavo pensando una cosa molto poco carina Allora vai sotto, meglio Capera Capera? Che significa? Capera Che significa? Quando sei una capera, tu sei un po' una capera Donna bellissima, intelligente Pettegola Io? Tu sei pettegola Io di chi? Come di chi? Io non sono pettegola Io non dico niente di nessuno No, no Lota Che cos'è? È una buona niente Lota che significa? Letteralmente Ah, non lo so Letteralmente significa fango Like lotus flower Però si usa, capito, per dire merda Sei una lota, sei una merda Sei un pupù Sei un pupù Esattamente Lato Che Che